Doppio Romano, Facecchia, la Mitterlina ritrova tre punti e sorriso al termine del match con Martinsicuro, valevole per il 26esimo turno di eccellenza. In casa giallorossa, Out, Santi Rocco e Marino D'Alessandro. Il trainer in seconda Volpe, che sostituisce lo squalificato Angelone, putta sul trio Alfonzi, Facecchia e De Michele. Tuzzi, chiamato a distribuire il gioco. Sul fronte vibratiano, il collega Di Fabio schiera ben otto fuori quota, alcuni di belle speranze, tra cui Pizzi, Palladini e Recanati. La prima miccia del match è della Miternina. Tuzzi per De Michele, la punta carica il destro, Cannella c'è. Quattordicesimo, ancora giallorossi. Domenico Di Alessandro chiede ed ottiene lo scambio da Facecchia. Destro tagliente, Cannella scende con i tempi giusti e disinnesca. La Miternina inserisce le marce alte, minuto 26. Di Alessandro apparecchia per Facecchia, sfera che fischia vicino al palo. Trentatreesimo, bussa il Martinsicuro. In decisione Felli Rossetti. Di Felice arma il destro, Lex Avezzano rimeglia sulla linea. Il pericolo squadra i padroni di casa e al trentaseiesimo si aggiorna il copione del match. Di Alessandro, arcobaleno per Romano, palloletto felpato ed è 1-0. La Miternina continua a martellare. Quattocicquesimo, Facecchia, face to face con Cannella, botta sull'estremo ospite. Nella ripresa è ancora la Miternina a mettere Pepe sulla gara. Diciannovesimo, ci prova De Michele, palla in out. Lo stesso attaccante innesca Alfonzi. Errore da matita blu, palla fuori. Il secondo violino scoppitano si chiama Mino Facecchia. Minuto 24, la punta si mette in proprio e con un tocco da calcetto va a prendersi la partita. Difensore, ma che. In pieno recupero è ancora Romano, protagonista, schiacciata di prepotenza su azione d'angolo ed è 3-0. Gioco, partita, incontro. L'azione manda i titoli di coda sulla gara. La Miternina sale a quota 24, a meno 3 dai nero stellati e a meno 5 dal Ponte Romano, avversario tra 7 giorni. Onore ai bepi vibratiani. L'impegno profuso merita comunque applausi. Negli spogliatoi ascoltiamo il difensore della Miternina, Luca Romano e il tecnico vibratiano Guido Di Fabio. A parte i miei due gol è importante la prestazione della squadra. Sapevamo che incontriamo una squadra fatta di tanti giovani, però era anche una squadra ostica e sono contento che il mio gol sia servito a sbloccare la partita perché altrimenti sarebbe stato un po' più difficile. Qual è il segreto del tuo rendimento? Niente, io ci ho sempre messo il massimo. Sin da quando sono arrivato qua alla Miternina, che è un ambiente bellissimo, ho sempre allenato, ho sempre dato il massimo, ho fatto alcune stagioni un po' male, ma adesso piano piano sto crescendo sempre di più. Quest'anno sapevamo a cosa andavamo incontro e la società ha puntato su una squadra giovane che stiamo cercando di far crescere in tutti i suoi elementi. Magari c'è qualcuno che cresce un po' più in fretta, qualcuno un po' meno, però siamo soddisfatti e ci dispiace solamente il fatto che non riusciamo a fare il risultato perché continuiamo a sbagliare e a fare degli errori.